Galleria è parte di FLU, Festival Linguaggi Urbani Ex Machina 017 ed è il prototipo di un museo multimediale, un percorso multimediale che si pone l'obiettivo di creare un dialogo col passato industriale della città di Savona. L'edizione di quest'anno nel tunnel degli ascensori della Fortezza del Priamar che già nella Seconda Guerra Mondiale era rifugio antiaereo per i bombardamenti che avvenivano sulla città. Oggi è un percorso multimediale sulla memoria industriale e l'identità contemporanea di questo territorio. È un'ipotesi, un prototipo di museo multimediale che noi vorremmo per questa città come forma di richiamo per quello che è una forma di turismo di qualità. Questa città è decenni che cerca il suo acquario di Genova e secondo noi offrire alla città uno spazio museale, espositivo, multimediale, interattivo e immersive che pari della civiltà industriale è l'obiettivo da raggiungere. Quello che presentiamo in questi nove giorni di festival è un percorso nella memoria dell'Ilva, dell'acciaieria più importante della città. È un percorso che ha come tappe anche il porto della città di Savona attraverso contributi vari che ci sono arrivati dalla Cineteca Nazionale, da Cineteca di Bologna, da Fondazione Ansaldo, da collezionisti privati. Ci sono delle macchine sceniche elaborate dalla scenografa Vittoria Carrieri, ci sono oggetti artistici, plastici, quadri e di altri materiali che sono realizzati da Walter Morando che invece è un artista che ha iniziato la sua carriera come camallo, come portuale, ma poi ha affrontato appunto la carriera artistica di oltre 50 anni. Quindi c'è l'esperienza e c'è la novità, ci sono i lavori degli studenti del corso di Scienza della Comunicazione che insieme a me stanno realizzando un archivio audiovisivo multimediale della memoria orale del territorio savonese che tra l'altro si trova online sul canale YouTube del laboratorio audiovisivo di Buster Keaton. Per questo vogliamo anche ringraziare chi ha sostenuto e ha contribuito a questo progetto e ovviamente gli organizzatori del festival Gabriele Mina, Guido Lotti, Lidia Giusto.